Grazie Roberto Russo, uno dei nostri giovani talenti, titolare, importante, pezzo pregiato di Perugia in questa stagione che non è finita e poi sicuramente pezzo importante della nostra nazionale. Allora Roberto, prima cosa come stai? Ciao Mauri, sono giù a Palermo, a Partinico, sono tornato da Perugia per il colpo di questo Covid e quindi sono qui per ora che sto un po' con i miei, mi rilasso un po' e aspetto delle novità, speriamo di tornare in campo il prima possibile. Sicuramente da Perugia a Partinico e quindi insomma in Sicilia il mare, il sole, tornare a casa è sempre molto bello. Sì, è bello, soprattutto anche per il mare, io quando torno vado sempre lì, adesso ancora non sono andato perché non si può, però non vedo l'ora di andarci e di andare a gustarmi magari un tramonto o qualcosa di bello. Ci chiedevamo tanto che non c'era mai riposo, non potevamo mai trovare degli spazi per fare delle cose, adesso questo c'è e addirittura tu sei riuscito a tornare tra i tuoi affetti, no? Sì, un po' di riposo ci sta adesso, però secondo me è anche un po' troppo, si fa sentire la mancanza dei campi, per un giovane come me penso che anche per gli altri non è... Sì, è buono anche per recuperare un attimo, però è meglio tornare in campo per riprendere da dove si era concluso. Tu sei nato nel 1997, perciò sei molto giovane, ecco dal punto di vista di un giovane come si affronta, come hai vissuto e come vivi questo momento straordinario? Perché dopo la guerra questo è il momento peggiore che passa il mondo, no? E l'Italia. Sì, poi è tutto molto strano anche perché questo è lo stop dei campionati, dei vari decreti che sono successi, è scattato subito dopo che siamo tornati dalla Russia con Perugia. E da lì dovevamo fare il ritorno dei quarti di Champions e hanno mollato tutto, hanno staccato un po' tutto ed è stata una bella botta. Poi abbiamo proseguito lì un po' di attività, però dato la gravità della situazione è meglio staccare e attenerci a quello che ci dicono di fare. Risposte veloci. È terminata la stagione in questa maniera, le decisioni della federazione, quelle della Lega. Chiaramente tu avresti voluto giocare questo playoff perché giochi in una delle squadre più forti del campionato. Com'è la tua impressione? Assolutamente sì, si poteva giocare. Io avevo voglia di giocare, però prima di tutto la salute, quindi accettiamo quello che ci hanno detto di fare. E occupiamo questo periodo in altro modo in attesa di eventuali novità. Roberto Russo, come si sente? Si sente anche profondamente cambiato da questa esperienza più riflessiva? Non so, chi è adesso Roberto Russo? Guarda, durante la quarantena penso un po' tutti riflettiamo sul futuro, su se stessi. Se analizzano magari le cose che sono andate bene e quelle no. Sicuramente c'è voglia di continuare, parlo con te di pallavola, di continuare per la strada e di fare bene nei prossimi campionati e magari per le Olimpiadi di essere presenti. Allora, facciamo una cosa, un tuo profilo. Se tu dovessi raccontare a me in dieci parole chi è Roberto Russo, nella vita e nello sport? In dieci parole? No, anche venti, dai, anche venti. Venti, trenta, quaranta. Parliamo allora, prima della vita, come ragazzo, chi sei? Guarda, sono un ragazzo a cui piace scherzare tanto, però sono anche un ragazzo che nei momenti penso di difficoltà, di qualsiasi mio amico, familiare, sono sempre presente. Con i miei compagni di squadra e non ho detto mi diverto tanto, mi piace ridere, scherzare. Poi penso di essere un ragazzo umile, nel senso che nel mio piccolo riesco a dare sempre qualcosa e poi non saprei cosa dirti. Caratteristiche in campo, fai un piccolo profilo di Roberto Russo. Caratteristiche in campo, mi piace non mollare mai, mi piace essere uno che ci dà sempre, anche quando le situazioni sono un po' complicate. E' un uomo della squadra, dai. Un uomo in cui, anche nei momenti che magari la squadra è un po' giù, cerco sempre di sfronare gli altri. Primo tempo o muro? Primo tempo. Senti, invece, la cosa che ti chiedo, l'impatto, perché tu arrivavi da Ravenna, quindi da una bella realtà dove i giovani sono stati sempre presi in considerazione. Andare a giocare in una grande squadra, qual è stato subito il tuo impatto, l'emozione, la sensazione, trovarti in mezzo a tanti campioni? Sicuramente le ambizioni delle squadre erano diverse. Perugia è una squadra in cui si punta a vincere, quindi anche la pressione che si ha quando si gioca è diversa. Poi però passa, perché il pubblico di Perugia penso sia stata una delle cose che più mi ha dato un impatto forte. Sono tantissimi che urlano sempre e ci danno sempre la carica. Quindi un voto positivo ai tifosi di Perugia. Hai iniziato con un allenatore, campione del mondo, Heinen, insomma molto particolare, un carattere molto forte e comunque è arrivata subito alla Supercoppa. Questa squadra ti piaceva? Sì, molto, anche perché per una squadra l'individualità è importantissima. Non devo stare io qui a dire chi giocava nel Perugia. Poi con Vital all'inizio magari abbiamo avuto un po' di difficoltà, perché è allenatore nuovo, lui ha un sistema particolare. Poi però man mano che il tempo passava siamo riusciti a prendere un po' la forma di squadra che lui voleva e stava andando molto bene. Infatti a parte la Coppa Italia, vabbè, che abbiamo perso altre brecche, però per il resto stava andando tutto molto bene. Mercato che va avanti, va via un grande palleggiatore come Luciano De Cecco, innamoratissimo sicuramente di Perugia. Ne arriva un altro con esperienza, Dragan Travizza. Come lo vedi, Dragan? Penso l'hai seguito tante volte anche da fuori dal campo, no? Sì, lo conosco. Io ho mandato infatti un messaggio appena ho visto che ha firmato con Perugia. Lui penso sia a tutte le carte regole per fare bene anche qui da noi a Perugia. Quindi certo, perdere De Cecco è... Cioè lui era una pedina importante, però adesso cerchiamo di trovare la giusta quadra con Travizza. Allora, tu sicuramente scalpiti come l'hai già detto, come la maggior parte non solo di voi ma anche di noi, perché insomma non vediamo l'ora che la palla a volo e la vita ricominci. Ecco però, siccome non sappiamo effettivamente quello che sarà, dal 18 dovrebbero ricominciare gli allenamenti di gruppo, ma che idee ti sei fatto di quello che sarà il futuro? Perché quasi sicuramente si partirà a porte chiusa, su questo non vi è dubbio. Sì, non sarà facile, anche perché come hai detto tu, giocare a porte chiusa, ho sentito i ragazzi che nell'ultima giornata hanno provato, hanno giocato a porte chiusa e non è facile. È una situazione un po' surreale. Il pubblico penso che è una parte fondamentale delle partite. Senza il pubblico sarebbe un po' tutto molto, diciamo, moscio dal punto di vista appunto dell'ambiente. Però se ci dicono di giocare così, noi dobbiamo fare così. Il problema che c'è nella palla a volo, anche se finalmente è diventato uno sport più sicuro rispetto alle prime revisioni che erano state, che amo letto sui giornali, è comunque uno sport dove il contatto fisico, soprattutto tra voi, c'è. Secondo te questo come si può limitare? Come veramente, che equilibri si possono trovare? Perché non sarà facile. È un po' difficile. Sicuramente nelle sultanze magari non riunirsi al centro del campo, anche se non è facile. Poi, per il resto, noi giochiamo fortunatamente in questo caso un po' distanti. Penso, a parte il primo tempo, che penso è il più vicino, però... Quindi, questo qui, cercare di mantenere le distanze nel limite del possibile e rispettare tutte le forme igieniche che ci vengono date. Passioni, perché questo lo chiediamo un po' a tutti i nostri ospiti. Roberto Russo, che passioni ha? Per esempio, a casa cosa hai scoperto? Il mare, ho sentito che è un grande senso di libertà che tu hai. Ecco, raccontami due o tre cose che hai fatto a casa e che fai a casa, no? Guarda, a casa, adesso al mare non posso andare, però giustamente quando ci sarà la possibilità, andrò la prima cosa che farò è andare al mare. A casa, niente, a parte stare con i miei, mi alleno, con i miei amici, tramite videochiamata, facciamo allenamenti online, poi guardo delle serie oppure studio. Questo è quello che faccio durante la giornata. Torniamo indietro, perché tu hai fatto tutta la gavetta dal club Italia, alla nazionale giovanile, hai giocato con l'Under-19, 20, 23, e poi sei arrivato finalmente nella senior, che è il sogno, penso, di ogni giocatore. L'emozione della prima volta in una competizione importante c'è stata e me la racconti, magari? Guarda, la competizione è andata tutto molto velocemente. Mi ricordo l'emozione, la prima che ho avuto è stata a Catania, con la nazionale, che è un amichevole, che lì non mi sembrava vero, anche perché a Catania sono venuti molti familiari, molti amici. Poi anche la qualificazione a Bari è stata un po'... c'era tanta tensione, anche quella lì è stato un bellissimo ricordo, che poi siamo riusciti a portare a casa la qualificazione, quindi è andato bene. La maglia azzurra, è chiaro che c'è ancora un anno, probabilmente quest'anno potrebbe servirci anche per arrivare meglio ai giochi olympici, ma ecco, questo tuo cammino, anche perché nel ruolo di centrale tu sai che l'Italia è messa abbastanza bene, siete tanti e forti. Sì, è difficile infatti partecipare sempre a qualsiasi manifestazione nazionale. Ci sono tantissimi giocatori che sono forti, quindi ci giochiamo il posto e siamo in tanti. Però io sono uno che non molla, quindi non mi fermo alle difficoltà, anzi mi danno uno stimolo in più per continuare. Un centrale italiano, escludendo te chiaramente, o comunque straniero del nostro campionato, chi è che ti piace, che può essere, non ti dico il tuo punto di riferimento, ma comunque uno che praticamente ha delle caratteristiche che ti piacciono molto? L'Issinanz. È attacco, è muro, è strepitoso. Cioè è un salto, è un salto penso, forse uno che salta più dei centrali, a parte Simon, quindi è lui. Battuta, è micidiale. Chiudiamo con la più grande emozione che tu hai avuto in questi anni, in questi pochi anni, perché insomma sei un ragazzo di carriera. Ce n'è una che ti piace ricordare particolarmente? Sì, io diciamo che amo la nazionale, quindi ogni volta che vedo il mio nome, magari nelle convocazioni, è sempre una gioia. Per quanto riguarda il club, è sicuramente la supercoppa che abbiamo vinto con Perugia, che è l'unico trofeo che ho ancora, fino adesso. Per chiudere, l'ultima cosa, da giovane, cosa dici ai giovani? Perché qui bisogna ancora avere un grande senso di responsabilità in questa fase che sembra tutto finito ma non è finito niente. Cioè, sicuramente quello di continuare a inseguire i propri sogni, che sia pallavolo o qualsiasi altra cosa, e di non mollare alle prime difficoltà, perché difficoltà sono parte del gioco. Quindi di continuare, inseguire i propri sogni e farlo sempre. Ciao Mauri, grazie. Grazie.